Mi trovo qui all'ingresso del castello di Ortona e... Oh, buongiorno maresciallo! Buongiorno! Come va? Beh, abbastanza bene. Io la vedo con questo abito, che cos'è questo abito? Questa è l'uniforme completa e ufficiale della Guardia d'Onore delle Reali Tombe del Panteon di Roma. E che cos'è la Guardia d'Onore delle Reali Tombe del Panteon? La Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Panteon è un ente morale, un'associazione combattentistica tra le più antiche d'Italia. Guardi, per essere molto più preciso e dettagliato nella spiegazione del nostro istituto, mi piacerebbe leggere un piccolo foglio dove storicamente ci sono tutti i cenni importanti. Questo anche per evitare di creare eventuali errori e di creare nello stesso tempo equivoci. Se voi mi permettete... Certo che le permettiamo, però intanto le volevo dire, da quanto tempo è iscritto? Sono iscritto dal 2001, quindi sono a bellezza di 21 anni. Ecco, possiamo dire che la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Panteon, o anche Picchetto d'Onore, è un servizio svolto presso luoghi simbolici destinati a mostrare che sia il luogo che i relativi simboli sono degni di onore, ossia di una particolare reverenza. Oggi la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Panteon è la più antica associazione combattentistica e d'arma esistente in Italia. Più chiaramente, durante il regno di Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia, un gruppo di ufficiali fondarono alcune associazioni di veterani delle guerre d'indipendenza. Alla morte del sovrano, avvenuto il 9 gennaio 1878, per mantenere viva la devozione e la riconoscenza all'Augusta Casa di Savoia, tali associazioni decisero sul proprio onore di prestare un servizio di guardia alla venerata spoglia mortale del Parria della Parria. Presso il suo luogo di sepoltura, al Panteon di Roma. Il nuovo re Umberto I approvò tale decisione il 18 gennaio 1878. Nel 1900, in seguito alla morte di Umberto I, assassinato a Monza, anche le sue spoglie vennero tumulate all'interno del Panteon, che divenne così uno dei luoghi simbolo del giovane regno d'Italia. I veterani estesero dunque il proprio servizio alle tombe reali del loro maestà Vittorio Emanuele II, padre della Parria e primo re d'Italia, e di Umberto I, il re buono, secondo re d'Italia. Con re Vittorio Emanuele III venne eretto in ente morale. L'Istituto della Guardia d'Onore alle reali tombe del Panteon è parriotico, apolitico e apartitico, e si propone di fornire, con i propri scritti, una guardia d'onore alle tombe dei sovrani d'Italia, quale tributo di riconoscenza per l'Augusta Casa Savoia che portò all'unità e alla grandezza della Parria. Mantenere vivi il rispetto della Parria e il suo senso all'onore. Custodire e tramandare le glorie e le tradizioni militari della Parria, tenere i necessari collegamenti con le istituzioni civili dello Stato, con le forze armate e conservare stretti rapporti di collaborazione con le associazioni combattentiste che d'armi italiane d'estero. Tra i soci dell'Istituto possono contarsi 55 decorati con 60 medaglie d'oro all'allor militare. Dopo questa bella storia che lei ha voluto leggere, perché è una cosa molto importante, ma lei che ruolo ha e dov'è che si svolge questa guardia d'onore, i luoghi? L'attuale mio ruolo è quello di delegato della delegazione della provincia di Chieti, con elezione avvenuta qualche mese fa. La maggior parte del servizio si svolge all'interno del Pantheon, quindi il luogo di sepoltura dei reali che hanno i primi re d'Italia, che hanno unificato l'Italia. Ci si può iscrivere a quest'ordine? Certo che ci si può iscrivere, in effetti è aperta a tutti. Una volta era riservata unicamente ed esclusivamente a militari, a militari delle guerre di indipendenza e quindi militari delle successive guerre. Adesso è aperta anche ai civili, basta fare una semplice domanda presso la sede delle delegazioni, questa domanda viene approvata, viene mandata a Roma e ci si può essere iscritti, inizialmente come guardie provvisorie e poi guardie definitive. Si tratta di un'istituzione monarchica? Non è un'istituzione monarchica, è un'istituzione repubblicana perché attualmente è sotto legida del Ministero della Difesa e fino a qualche tempo fa era sotto legida della Presidenza del Consiglio. Immaginate che il Labaro sfila da sempre, il Labaro con tutte le medaglie, sfila da sempre alla sfilata del 2 giugno. Quindi il giorno dei festeggiamenti tra monarchia e Repubblica, quindi un istituto filo monarchico che sfila la sfilata del 2 giugno. Lei si sente monarca o repubblicano? Io sono fedele repubblicano perché sono un ex militare e abbiamo giurato tutti quanti fedeltà alla Repubblica. Una volta era fedeltà al re, ma con l'avvento della Repubblica abbiamo giurato e dobbiamo mantenere questo giuramento alla Repubblica. L'istituto dove lei è iscritto tratta la storia della monarchia Sabauda o dei Savoia? Sì, esatto. Tratta unicamente la storia dei Savoia che hanno unificato l'Italia. Ripeto, storia dei Savoia che hanno unificato l'Italia. Parliamo di re Vittorio Emanuele II, Umberto I e Vittorio Emanuele III. Oggi è il 9 settembre, una data che ci ricorda, ci fa andare indietro nel tempo. 9 settembre 1943. Cosa accadde qui ad Ortona? A Ortona, 8 e 9 settembre 1943, è accaduto qualcosa che ancora oggi la storia, in qualche maniera detta o riferisce in forma alla cittadinanza secondo una certa inclinazione politica, senza nascondere. Ancora ieri sera, 8 settembre, sul Rai 3 abbiamo visto il programma Rai Storia. Anche loro stessi narratori hanno sottolineato che in quel periodo, in quei giorni là, c'è stata solamente tanta confusione. Tuttavia, nell'ambito del nostro istituto ci sono delle versioni dettate da documenti storici rinvenuti, da racconti da parte di storici senza avere inclinazione politica, i quali fanno capire abbastanza chiaro, in maniera molto chiara, che laddove si dice che il re è fuggito tutto sommato non è affatto vero. Perché? Perché ci sono parecchi fatti da sottolineare, per esempio Ortona non è stata la sede, non doveva essere la sede di transito del re, ma la sede doveva essere Pescara. Praticamente la sera dell'8 settembre questa comitiva, queste macchine che si erano mosse da Roma per raggiungere Pescara, giunti a manoppello, veniva bloccata. Praticamente venivano avvisati che a Pescara, luogo dove si dovevano imbarcare su degli aerei, a Pescara i fascisti li stavano attendendo perché avevano capito che il re era fuggito. Ecco, soltanto in questa occasione venne pronunciata la parola fuga, fuga del re. Che è chiaro, successivamente questa parola è stata utilizzata, specialmente dalla sinistra italiana, per inquotere maggiore disdegno nei confronti di Cassa Savoia. Praticamente quando il re Badoglio e la famiglia Reale hanno visto l'impossibilità di raggiungere Pescara, è considerata allora tardi, ecco raggiungere il castello di Crecchio dove in qualche maniera hanno riparato. Perché i padroni del castello di Crecchio erano i cugini del re, ma non cugini per via di parentela. Tutti coloro che erano insignite della corona della Santissima Annunziata venivano chiamati i cugini del re. Praticamente alla fine, quando non è stato possibile prendere questo aereo per poter partire, ecco chiamare a largo di Ortona la corvetta Baionetta, la quale si è avvicinata alle coste del porto di Ortona per imbarcare un carico speciale. Nel pomeriggio del 9 settembre questo carico speciale, che poi avevano capito che si trattava del re della famiglia Reale, del governo di Badoglio e tanti altri ufficiali generali, partirono alla volta di Brindisi. Adesso che cosa succede? Associare la fuga del re e il fatto che sia Vittorio Emanuele III, che suo figlio Umberto II, sono poi morti all'estero in esilio, associando la fuga e la morte all'estero fanno pensare al popolo che il re effettivamente sia fuggito, è andato via dall'Italia e quindi chi si è visto si è visto, perché la storia finisce con la partenza del re. Purtroppo non è stato così, il re da Ortona partì con questa nave e si spostarono a Brindisi. Brindisi in quell'epoca là non era occupata dalle tedesche e pertanto era un luogo sicuro. Brindisi era ed è tutt'oggi italiana e quindi lì venne creato quello che poi fu chiamato il Regno del Sud. Nel gennaio-febbraio successivo 1944 sia il governo che la Casa Reale in qualche maniera avevano continuato sotto il controllo e collaborazione degli alleati a Salerno dove ci fu la costituzione di questo nuovo governo che venne chiamato la svolta di Salerno e sino al rientro di tutti nuovamente nel Quirinale che è avvenuto il 5 di giugno 1944 all'indomano della liberazione di Roma. Quindi dire il re è fuggito senza poi specificare dove, senza poi far conoscere che tuttavia da Brindisi è andata a Salerno e poi rientrata a Roma serve soltanto a chi vuole continuare a denigrare Casa Savoia, serve soltanto a far pensare che il re è andato via, chi si è visto si è visto. Purtroppo non è così. Tornando al suo ordine, quanti iscritti ci sono qui in Abruzzo? In Abruzzo tra le quattro delegazioni provinciali siamo poco più di un centenario, adesso il numero preciso non lo so. Comunque nella delegazione di Chiti ne eravamo oltre una sessantina, adesso con il Covid che ha interessato anche le iscrizioni, siamo scesi a poco più di una ventina. Nel territorio locale non siete mai apparsi? Il motivo? Come mai? Nel territorio locale siamo apparsi soltanto per una decina di anni durante la festa del perdono nelle precedenti amministrazioni. Con l'attuale amministrazione comunale stiamo cercando di avere delle possibilità di essere considerati alla stregua delle altre associazioni d'armi perché ripeto noi siamo la più antica associazione d'arme e pertanto non è che siamo meno importanti o diversi non so dall'associazione carabinieri, marinai, che ne so io, bersagliere e tutti il resto. Siamo tutti alla stessa altezza, tutti quanti sotto legge del Ministero della Difesa e pertanto chiederemo all'attuale amministrazione di tenerci in considerazione come tutti gli altri. Ultima domanda per chiudere questa bellissima puntata. Ieri, 8 settembre 2022, è venuta a mancare la regina Elisabetta II. Lei vuole esprimere un suo pensiero riguardo a questa donna che è stata per 70 anni la regina dell'Inghilterra ma penso che sia stata la regina più amata nel mondo. La perdita della regina d'Inghilterra è anche per noi una grandissima perdita. Per noi non esiste la regina d'Inghilterra o il re di Norvegia o la regina di Spagna. Per noi i reali, le regine o i re sono uguali dappertutto e ripeto per noi guardia d'onore la regina d'Inghilterra rappresenterà e rappresenta una grandissima perdita. La regina d'Inghilterra La regina d'Inghilterra La regina d'Inghilterra La regina d'Inghilterra